Buonasera, sono Giancarlo Pedrazzuolo, primo anno qui all'Arbor Club, un mai torneo organizzato da tanto tempo qui in Italia, non ho avuto mai il piacere di giocarlo. Vabbè, come tutti i giorni in Italia c'è grande atmosfera, poi a Milano ancora di più si sente, speriamo che il tempo ci aiuti, per il momento sta andando tutto bene, c'è anche grande pubblico, speriamo di fare bene anche in campo. Sono Massimo Colicastro, direttore del torneo Arbor Club Zenith Cup del 2008, mi trovo in compagnia di Flora Anastasio di Makers e siamo oggi all'apertura dei giochi del torneo con le gare di qualificazione e abbiamo visto delle bellissime partite sin dalle prime battute da stamattina, il tempo ci ha dato una grossa mano, siamo stati molto fortunati. Un bellissimo regalo Flora? Un bellissimo regalo e tutti i buoni affici che ci vogliono per l'inizio di un torneo importante come questa Tennis Cup e oggi c'è stato il primo turno di qualificazioni e mercoledì ci sarà invece un evento molto carino, molto importante. E divertente, che coinvolge un po' di personaggi del mondo e dello spettacolo. Avremo tra i doppisti in campo Gianluca Grignani, Eros Ramazzotti, Ale Franz, Paola Echiara, abbiamo un po' tutti. Vi aspettiamo all'Harburg Club da mercoledì pomeriggio e divertitevi qui da noi. E seguiteci. E seguiteci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.